Sono sei, passeranno di dieci. Cominciamo a dire chi va all'Ariston. Quindi, partecipa al prossimo festival di Sanremo. Gaudiano, polvere da sparo. Gaudiano a Sanremo. Gaudiano a Sanremo. Parteciperà al prossimo festival di Sanremo. FOLCAST! Scopriti! Rimani un secondo, Follo, rimani un secondo che i fotografi fanno le foto, gli fanno l'applauso. Dopo Gaudiano anche FOLCAST va a Sanremo. Ripeto, questa è la somma delle tre classifiche. La somma dei voti della giuria televisiva, unita alla commissione musicale e al televoto. Il televoto vale il 34%, 33% giuria televisiva e 33% commissione musicale. Quindi questa è la classifica finale, la somma di tutte e tre le componenti. Andiamo avanti. Terzo giovane, che si aggiunge agli altri e quindi va a Sanremo all'Ariston. Dopo Gaudiano e FOLCAST si aggiunge anche... Greta Zuccoli! Ogni cosa sa di te, Greta Zuccoli al Teatro Ariston di Sanremo. Da questa parte voi sapete dove andare, quindi non seguite le mie indicazioni da vigile. Avevo ragione, una volta tanto da quella parte. Bene. E siamo a tre. Andiamo avanti, devono essere sei. Ci sono altri tre posti. Va a Sanremo, quindi quarto, ad andare a Sanremo. Davide Sciorti! Con Regina! Davide Sciorti al Teatro Ariston di Sanremo, categoria Nuove Proposte. Grazie Davide. E siamo a quattro, quinto e penultimo ad andare al Festival di Sanremo. Rongo Nuove, lezioni di volo! Rongo Nuove a Sanremo, con lezioni di volo! Grazie! Manca un posto. Ci sono i desideri, le larve, U, Merlot, Avincola. Adesso devo dire, ragazzi, chi non va a Sanremo? Chi è stato eliminato? Attenzione! Non va a Sanremo! Merlot! Non va a Sanremo! Con sette volte! Grazie Merlot! Grazie in bocca al lupo! In bocca al lupo per tutti! Non va a Sanremo! Le larve! Le larve non va a Sanremo! Grazie! Musica aereoplano! Sono rimasti i desideri, U e Avincola. Solo uno di loro tre andrà a Sanremo. Non va a Sanremo! I desideri! Lo stesso cielo! Grazie ragazzi! Bocca al lupo! Raggiungete pure il centro! Ovviamente si frequentano da tanti mesi, sono tutti diventati amici. Solamente un posto c'è disponibile, occupato o da U o da Avincola. Ovviamente! Complimenti a tutti e due, come a tutti gli altri ragazzi! Vi dico chi va! Quindi l'ultimo nome che faccio per completare la lista poi degli otto della categoria nuove proposte delle prossime feste del Sanremo. E quel posto unico disponibile lo conquista A Avincola con gol! A Avincola va a Sanremo e salutiamo U con occhi mia gara. Grazie U! Ora tutti sul palco, i finalisti, tutti gli otto ragazzi della categoria nuove proposte del Festival di Sanremo 2021. Grandi abbracci, commozione, i ragazzi di Aria Sanremo Team che si aggiungono. Questa è la fotografia finale del Festival di Sanremo.